Ben ritrovati ragazzi, oggi pagelle di Juventus Inter, cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione, cerchiamo di dare una valutazione anche ai calciatori, all'allenatore che sono scesi in campo ieri sera all'Allianz Stadium nella semifinale di andata di Coppa Italia che si è conclusa per 1-1, risultato che come dicevo anche nel video ieri sera secondo me tutto sommato è giusto, peccato per aver lasciato andare questa vittoria per 1-0 che avrebbe garantito alla Juventus anche la possibilità di pareggiare per accedere a alla finale di Coppa Italia nei minuti finali. Ne approfitto, apro e chiudo una parentesi al volo perché qualcuno mi ha detto ma secondo te quello su Kostic non era fallo per la spinta? La sensazione anche da parte mia è che quell'intervento potesse essere effettivamente punito con una punizione dedicata alla difesa, il classico intervento in campo che l'arbitro ha il dovere di valutare, non ci sarà praticamente mai uniformità di giudizio da questo punto di vista, anche se secondo me in condizioni normali sarebbe è stato opportuno fischiare il fallo in attacco all'Inter, il fatto che se si è deciso di andare avanti non lo trovo comunque scandaloso, per me il fallo si poteva fischiare, è stato deciso di andare avanti, non credo che sia uno scandalo, in ogni caso la decisione spetta all'arbitro e a quello che vede in campo e quindi direi di andare semplicemente avanti perché non trovo logico spendere altro tempo per commentare questa cosa qui. Ci vediamo al ritorno e sono convinto che la Juve possa veramente mettere i bastoni tra le ruote all'Inter e garantirsi l'accesso alla finale in casa loro in una gara che sarà sicuramente tosta se non tostissima. Vi invito a guardare anche quello che è stato il video che ho pubblicato inerente a tutto il discorso che è accaduto nel finale di ieri perché si sono scatenate diverse cose, ci sono anche delle cose che vanno oltre. La cosa bella è che la Juventus ha fatto uscire un comunicato ufficiale che va a sottolineare come queste persone che allo stadio hanno ululato e rivolto atteggiamenti razzisti nei confronti di Lukaku saranno identificati e verranno consegnati alle forze dell'ordine. Mi auguro veramente che ci sia una daspo, sono molto contento di vedere che la Juventus si muove in questo modo perché tante volte in Serie A abbiamo assistito agli stessi identici vergognosi comportamenti nell'indifferenza generale, facendo finta di niente con le società che sono incapaci di trovare i colpevoli responsabili. La Juventus gode di una struttura all'avanguardia e da sempre collabora per togliere la possibilità a certe persone di entrare allo stadio, ricordo anche lo scorso anno quanto avvenuto nei confronti di Magnan, la Juventus ha identificato immediatamente i responsabili e li ha rimossi dalla possibilità, li ha inseriti all'interno di una lista di daspo che prevede il fatto che siano allontanati comunque dai campi da calcio come è giusto che sia. Prima di andare avanti voglio anche sottolineare un'ultima cosa sulla questione perché da come si è strutturata sembra che sia stata la curva della Juventus in generale a rivolgere questo tipo di atteggiamento nei confronti di Lukaku. Io vedevo anche il video di Romeo Agresti che al termine della partita dice se ci sono state queste cose è giusto che leggevo dei ragazzi su Twitter che erano allo stadio e dicevano guardate che non si è udito niente di che stiamo parlando probabilmente di 4, 5, 10 persone. Comunque un gruppetto ridotto di idioti, coglioni, non ci sono altri modi di definirli quindi non stiamo parlando dell'intera curva della Juventus, queste persone vanno prese e rimosse dagli stadi, non importa il numero, importa l'azione nel concreto. Questo spiega anche perché probabilmente i vari Perin e Danilo alle telecamere non sono andati dritti a parlare di questa cosa qui e questo spiega anche perché noi ieri nel post partito o comunque in presa diretta su Twitch non abbiamo commentato l'episodio perché non c'era stata la percezione, la sensazione che fosse accaduto qualcosa di così grave. Se Lukaku ha risposto invece direttamente dopo il calcio di rigore non con l'esultanza ma con l'atteggiamento a quello che ha sentito è perché lui in prima persona è riuscito ad udire la voce di questo gruppo ristretto di persone che va punito. Non ci sono giustificazioni, non c'è nemmeno la giustificazione come ho letto nei commenti dell'altro video, essi però gli altri quando lo fanno noi non fanno niente, non importa. Non è che se gli altri non vengano puniti allora non devono punire i nostri, devono punire i nostri e devono punire anche quegli altri e sono orgoglioso che la Juventus in questo sia sempre precisa e puntuale nel cercare di migliorare il calcio in Italia così come dovrebbero fare tutti invece che mettersi troppe volte i paraocchi a convenienza. Voto 5 e mezzo Massimiliano Allegri perché non mi ha fatto impassire l'atteggiamento della Juventus nel secondo tempo. Nel primo invece avevo visto una squadra attenta, vogliosa, grintosa nel secondo tempo, ho visto una squadra che si è addormentata un po' troppo. Non è tanto un problema in questo caso di avere la squadra che dopo il primo gol molla, decide di gestire, non è stato questo. La Juve proprio nel secondo tempo ha fatto una fatica, una faticaccia incredibile dopo un primo tempo che secondo me era stato giocato alla pari con l'Inter dal punto di vista dell'intensità, anche dell'aggressione. Una Juventus molto offensiva nel primo tempo con un pressing alto, la volontà di andarli a prendere alti, un po' come era stato l'anno scorso nella partita di ritorno in casa nostra. Persa purtroppo per 1-0 su un episodio tuttora abbastanza discutibile, però la Juventus anche in quell'occasione mi era piaciuta. Ecco, una Juventus dalle due facce tra primo e secondo tempo e su questa cosa l'allenatore deve sicuramente cercare di intervenire. Vedevo anche il video post partita di Davom che diceva che non mi è piaciuta l'idea di Allegri di levare fagioli per inserire un giocatore diverso da Chiesa perché capisco se mi togli un centrocampista per andare a fare il tridente. Secondo me è condivisibilissimo questo ragionamento, questo pensiero. Poi secondo me non c'era nemmeno la necessità di andare ad inserire il giocatore in più in attacco e fare il tridente perché comunque si sta parlando di una partita tra andate e ritorno. No, non c'è più il discorso del gol fuori casa che vale doppio, quindi anche se la Juventus poteva arrivare come poi è successo al gol anche senza andare al tridente, anche perché tante volte abbiamo visto che la Juventus col tridente comunque non è che risolva dei problemi, anzi forse va a generare ancora più caos di quanto non ve ne sia già all'interno degli ultimi metri della manovra, degli ultimi metri di campo della Juventus. Però secondo me bisogna cercare di migliorare proprio in generale l'approccio che si ha anche nella durata totale della partita perché le partite durano 90 minuti. Poi ieri sera c'è stato un episodio che va al di là della capacità di Allegri o di quello che è stato Allegri, della gestione di Allegri perché l'errore lo fa Bremer ma queste considerazioni le avrei fatte a priori, a prescindere non è che se avessimo vinto il voto di Allegri sarebbe stato 6, non è quello il punto, è che il secondo tempo della Juve proprio non mi è piaciuto al fronte invece di un primo tempo che siccome era stato preparato molto bene. Quindi c'è la necessità di dare un po' di continuità da questo punto di vista. Non so se è stato un discorso fisico e quindi la squadra poi si è andata in emergenza. D'ossigeno potrebbe pure essere una lettura importante, vedremo cosa succederà con la Lazio nella partita di questo weekend. Perché è vero che la Serie A, è vero che in Serie A abbiamo un discorso diverso da fare rispetto alle coppe, però ci tengo perché la Lazio in questo momento è seconda in classifica. All'andata in casa nostra abbiamo giocato una bellissima partita secondo me, in Coppa Italia li abbiamo eliminati e allora dobbiamo cercare di continuare su questa falsa riga e dimostrare che la seconda squadra in Italia dopo il Napoli ha un nome, un cognome chiaro e definito alle strisce bianconere e se anche in questo momento in classifica non appare immediatamente alle spalle del Napoli siamo noi e siamo sempre noi. Voto 6 e mezzo a Perin perché secondo me ha fatto una buonissima partita anche quel tiro nel primo tempo di Brozovic, era molto complicato perché Perin probabilmente non lo vede partire, passa anche di fianco o in mezzo alle gambe di gatti, c'è stato un gran riflesso di Perin, ci sono state diverse occasioni in cui Perin si è fatto trovare pronto, purtroppo sul rigore non è riuscito a indovinare l'angolo, giuro me lo sentivo, io in presa diretta lo dicevo anche ieri sera nel post partita ma l'avete visto anche nella mini live reaction che ho caricato su TikTok e Instagram, mi sentivo la parata di Perin, purtroppo non è andata così, e al ritorno avrà sicuramente la possibilità di rifarsi e conquistare da protagonista l'accesso a una finale di Coppa Italia che secondo me la Juve ha tutte le possibilità di raggiungere. Voto 6 e mezzo a Gatti, mi è piaciuto tanto anche ieri sera ragazzi questa volontà di Gatti di accompagnare l'azione e proporre all'esterno di competenza, in questo caso Quadrado, anche un'opzione in più, sempre una linea di passaggio pulita in più, anche un'opzione per andare sul lungo in avanti è qualcosa di ottimo, di eccellente. Poi Gatti sta probabilmente iniziando a diventare sempre meno grezzo, perché lo vedo anche sempre più capace con il pallone tra i piedi, ci sono state un paio di occasioni, me ne viene in mente una, quando ha dato proprio in sovrapposizione che ha voluto mettere di prima la palla rimpallando sul muro dell'Inter, che lì vedi ancora che è comunque un difensore centrale, però ragazzi questo è al primo anno, è al primo anno di Serie A, è quindi il primo anno di Juventus, questo giocava in Serie B l'anno scorso, prima in categorie ancora più basse, è una crescita impressionante, è una crescita impressionante anche dal punto di vista mentale, perché non è minimamente assolutamente facile arrivare così pronti dal punto di vista fisico, ma lì madre natura sicuramente l'ha aiutato, perché c'ha il fisico che magari avere un fisico del genere è con l'altezza, però a livello mentale te la devi costruire, e quindi sono molto soddisfatto di quello che sono le ultime prestazioni, le ultime apparizioni di Federico Gatti, che a questo punto forse panchinato definitivamente a Alexandro, non lo so, vedremo, ci sarà la possibilità di far rifiatare comunque un po' tutti e tre, ma sapere che è venuto fuori un giocatore del genere mi fa dormire sicuramente sonni tranquilli. Voto 5 a Bremer perché l'ingenuità ragazzi è troppo grossa, non si scappa da questa cosa, ma la prestazione di Bremer è stata buona, Bremer ha comunque tenuto a bada l'attacco dell'Inter, la difesa della Juventus è stata protagonista di un'altra buona prestazione, anche nel secondo tempo quando si era abbassato tremendamente il baricentro della Juventus e quindi la difesa della Juve era diventata ancora più sottoposta a stress da parte dell'Inter, che comunque continuava ad arrivare con costanza sulla nostra tre quarti. L'errore di Bremer è banale, banalissimo, perché quella mano è evitabilissima, non mi viene in mente niente di diverso. A mettere in croce Bremer per questa cosa mi sembra decisamente eccessivo, perché in questa stagione Bremer ha fatto bene, se non benissimo, a parte un paio di partite, mi viene in mente quella di Napoli, mi viene in mente un'altra partita, non mi ricordo se è tra Monza o Udinese, forse Monza in casa nostra, forse anche quella con l'Udinese, però stiamo parlando veramente di un gruppo ristretto di partita al fronte di altre giocate su altissimi livelli. Quindi anche quella con l'Inter in campionato, l'ultima giocata, si è completamente messo in tasca Lukaku e Lautaro e anche ieri sera il gol arriva poi su calcio di rigore per un'ingenuità proprio di Bremer, che si merita 5, ma mettere in discussione la stagione mi sembra decisamente eccessivo, dato che ne sto leggendo davvero troppe di tutti i colori. E troppe di tutti i colori, forse ancora di più di troppe di tutti i colori rispetto a Bremer, su Danilo. Perché ragazzi, mi è toccato addirittura sentire in queste ultime ore che Danilo è razzista. Addirittura ho letto un post su Twitter, veramente che mi ha fatto gelare il sangue, mi ha fatto interrogare sull'intelligenza del genere umano, di un account interista che diceva, eh sì è facile per te parlare perché sei meno nero. Come le commentate voi queste cose? Perché Danilo da sempre è stato protagonista in prima linea alla lotta al razzismo, già l'account della Juventus sui vari social postava nelle settimane precedenti un intervento di Danilo proprio su questa tematica che è sempre stata importantissima per lui, perché non esiste il meno nero, perché il razzismo è razzismo sempre, che sia nei confronti di chi ha la pelle nera, di chi ha la pelle bianca, non è questo. È il modo con cui ti esprimi, perché è lo stesso Kostic, è caucasico, eppure è stato vittima di attacchi razzisti. Non è quello, ogni tanto mi viene veramente... Non posso dire da ridere, perché c'è poco da ridere, ma è l'unica cosa che puoi fare di fronte a queste cose che sono di una stupidità disarmante. Danilo mi è piaciuto, anche perché è andato a tirare via, ha provato, ha cercato di tirare via a quadrado. Ha capito che non aveva minimamente senso andare lì a complicarsi il ritorno e perdere un giocatore come poi è stato per niente. Danilo, maturità, intelligenza, calcistica, che abbiamo già visto in campo, ma poi sull'extracampo è sempre impeccabile e sono fiero, sono veramente fiero e orgoglioso di essere rappresentato da un giocatore che si merita di indossare quella fascia e se lo merita è come di indossare quella fascia. Bravo Danilo. Voto 6 invece a quadrado, che ragazzi... Allora, intendiamoci. Quadrado la sblocca sta partita. Ci porta avanti, ci porta solo una zero, ci porta anche a immaginarci di poter andare a San Siro con due risultati su tre a disposizione per via della vittoria che è sfumata negli ultimi istanti. Però Quadrado deve crescere e non c'è più margine di manovra, non c'è più margine di crescita per un giocatore che ha la sua età ormai. deve crescere in determinate cose, perché lui non può continuare ad andare, anche a cercarsele. Ho già fatto la disamina nel video di oggi, che è uscito a pranzo, quindi il voto di Quadrado sul campo sarebbe ben più alto di 6, perché quel gol è di una vitalità... Cioè, è di un'importanza, ragazzi, quel gol lì che... Non so quanto possa essere importante, tantissimo. Però tutto quello che fa dopo è... Se prima parlavamo di ingenuità da parte di Bremer, è un'ingenuità quella che avviene sul campo in una frazione di secondo. Questa è un'ingenuità differente, perché tu devi venire via. Tu sei pure diffidato. Cioè, tu dovresti capire che certe cose è meglio non farle. Sono stato profondamente deluso da quello che è stato Quadrado ieri, negli ultimi minuti di gara, e anche quella prova di cazzotto, di pugno nei confronti di Andanovic. Sono cose che non mi piacciono minimamente. Quindi, fatta è una media tra il voto della prestazione in campo, Quadrado sempre determinante, sempre puntuale in queste sfide, perché i gol di Quadrado non si contano, ma si pesano. Perché Quadrado ha sempre segnato dei gol pesantissimi. Però poi mi cade con tutto quello che è accaduto poi. Perché sostanzialmente siamo andati a metterci in difficoltà da soli. Siamo andati a metterci in difficoltà da soli. Ora dovremo giocare una semifinale di ritorno, sicuramente senza di lui. E secondo me la finale non la farà. Attendiamo quello che deciderà il giudice sportivo. Non ho ben chiaro quale sia il regolamento in caso di condotta violenta, se verrà addirittura allargato la Serie A, dato che solitamente Coppa Italia e Serie A potrebbero avere anche delle cose in comune. Vediamo cosa succederà. Magari la Juventus, o lo stesso Quadrado, dato che in scadenza di contratto con la Juventus, avrà una stangata all'interno della Coppa Italia. O appunto, vedremo se potrà toccare pure il campionato, ma certe cose veramente vanno evitate e basta. Voto 6 a Fagioli, che è un giocatore che secondo me ieri, è stato meno appariscente del solito. Però 3-4 palloni crossati, Avlaovic fatti bene, 3-2-3, non 3-4, 2-3 sono arrivati senza sé, senza mai. È stato quello che a centrocampo ha creato più occasioni da gol per la Juventus. Che potevano essere occasioni da gol importanti, che abbiamo sfruttato male. Quindi Fagioli secondo me non ha fatto la partita migliore del mondo, però è stato l'unico che è una lucina a centrocampo dal punto di vista della costruzione e della creazione di occasioni da gol, e lui l'ha accesa. Voto invece 6-2 a Locatelli, perché non ha fatto la solita prestazione di ottimissimo livello, però non ha fatto nemmeno male. Cioè, tradotto, non è la prestazione che abbiamo visto fare altro giorno con l'Ellas, però Locatelli è sempre quello che ti mette quel qualcosa in più sul campo, che va al di là della tecnica e della tattica. Veramente, Allegri nella pre-partita, in conferenza stampa pre-partita, parlava di cuore. E questo Locatelli non te lo fa mai mancare. Locatelli è il cuore, per eccellenza e per definizione. 5-5 a Rabiot. Quella fascia sinistra non l'abbiamo praticamente mai sfruttata. Non ci siamo mai andati sulla sinistra, che è la nostra parte forte, il nostro punto forte quest'anno. le cavalcate, le sgroppate di Rabiot, le cavalcate, le sgrobbate di Kostic. Ci siamo mai andati. E quando ci siamo andati, ci siamo andati male. Quindi il nostro punto forte è diventato il nostro punto debole ieri sera. Sperando che già Roma con l'Alastu possa cambiare la musica. Rabiot si becca un 5-5. Sicuramente non la prestazione standard di Rabiot in questa stagione. E voto 5 invece a Kostic. Se ecco 5, credo che ci sia poco da dire. impreciso, forse stanco, decisamente distante dal Kostic devastante che abbiamo visto a San Siro nella gara contro l'Inter qualche settimana fa. Peccato davvero. Peccato perché ha steccato una gara che doveva invece decidere, probabilmente. Uno come Kostic, una gara del genere, la può decidere come. Votto 5 a Di Maria. Il grande assente, secondo me, di questa partita. Perché poi arriveremo, anzi ci arriviamo subito. Vlaovic, che si becca 5 pure lui, ha fatto degli errori, anche sottoporta. Ci sono state delle situazioni in cui poteva sicuramente lavorare meglio, mi vengono in mente un paio di colpi di testa, difficili, sicuramente complicati. Però lui mi deve lavorare anche su sta roba qui. Perché Vlaovic nel gioco aereo non è ancora eccellente. Non è ancora un giocatore che nel gioco aereo va a dominare. E ci può arrivare. Perché ha il fisico per farlo. Però ci sono state delle situazioni in cui Vlaovic proprio le ha sbagliate, no? Di Maria è stato completamente assente. Cioè, tante volte lo vedevo abbassarsi per andare a prendere il pallone, ma senza fare quel movimento in più che solitamente Di Maria fa per effettivamente andarselo a prendere. Cioè, si abbassava, arrivava solo a tre quarti e diceva eccomi qui, sono qui. Tante volte invece Di Maria va proprio vicino al giocatore in modo da prendere il passaggio e dargli la possibilità di sganciarsi. Ieri sera l'ha fatto poche volte. La Juventus è rimasta bloccatissima dal punto di vista offensivo perché sappiamo bene, 100%, che c'è una Juventus che attacca con Di Maria e una Juventus che attacca senza Di Maria. Cambia proprio la qualità del palleggio negli ultimi metri, la qualità della costruzione della manovra. Di Maria è un giocatore essenziale per la Juventus negli ultimi metri. E ieri sera è mancato, e l'abbiamo visto. E di questo sicuramente Vlaovic ha bisogno, perché già fa fatica, se poi non andiamo nemmeno sugli esterni come ieri sera, perché praticamente abbiamo giocato soltanto a destra, Di Maria non va a riempire l'area di rigore. Ha bisogno, Vlaovic, di altri giocatori che vanno a riempire l'area. Anche ieri sera Rabiot ci è andato poco, Costic ancora ci arriva poco a riempire l'area di rigore. Di Maria non ci va, ha bisogno di supporto, ha bisogno di fantasia, di tecnica negli ultimi metri. E quindi ieri sera sia Vlaovic che Di Maria sono stati abbastanza spenti. Motosè, Miretti che è entrato, ha fatto il suo, probabilmente Fagioli è più pronto di Miretti per questo tipo di partite, per questo grado di difficoltà, non ha sfigurato, ha fatto il suo senza infamia, senza lode, una sufficienza. E poi c'è Federico Chiesa che, io lo dicevo ieri nella live reaction, prima dell'ingresso di Federico Chiesa, io ho detto, io non farei entrare Chiesa. E non perché mi stia su Chiesa, anzi, sapete bene quanto adori questo giocatore, però nelle ultime gare ho visto veramente un Chiesa, un Chiesa distante dall'essere un giocatore pronto. Questa cosa che entra e poi ogni tanto non finisce la partita, esce, la finisce acciaccato, poi sta fermo, si riferma, sta fuori qualche giorno. Cioè, io la vorrei risolvere, la vorrei proprio risolvere, perché Allegri continua a dire che comunque Chiesa un dolorino lo avverte. E allora non ha più senso garantirgli questa possibilità di riposarsi. Banalmente, Ayken in panchina che è squalificato, con la last venerdì, sabato, quando giochiamo, è squalificato, non ci sarà a Roma. Viene da un gol con cui hai vinto una partita di campionato, a Emilik che è rientrato e dovrebbe stare decisamente meglio di Chiesa. C'è davvero necessità di spomparlo, di utilizzarlo, anche se non è ancora al meglio al 100%, né a livello fisico né a livello mentale. Secondo me no. Secondo me no, perché poi ho paura che Chiesa possa attraversare questo calvario in cui torna, va su ancora, si fa male, si accorge di non essere al 100%, non dà tutto quello che può dare, e noi rimaniamo ancora fregati. C'è bisogno di Federico Chiesa, c'è bisogno di Chiesa al 100% in questo aprile. Secondo me è rischioso, secondo me continua ad essere rischioso mettere dentro Chiesa che si vede che non sta bene. Lui ci prova, perché cazzo poi ha iniziato a pressare a un certo punto sia Brozovic che i portatori di palla dell'Inter, si è riaccesa la Juve dal punto di vista del pressing offensivo con l'ingresso di Chiesa, ma si vede che non sta bene. C'è stato un momento in cui aveva la palla sulla sinistra, stessa situazione, nella stessa competizione, nella stessa porta, nella stessa mattonella di Juventus contro Monza, da cui poi trova il gol. Non ha nemmeno provato a puntare l'uomo. Si è garbugliato sul pallone, è andato dalla parte opposta rispetto al puntare la porta. Queste sono piccolezze, ma un giocatore come Chiesa che vive di cambi di direzione, ce l'ha detto anche lui, qualora ce ne fosse stata necessità, nel loro or nothing, no, non nel loro or nothing, nel back on track, quando si allenava per tornare a fare quelle cose che lui sa fare bene, c'è bisogno di averlo al 100% un giocatore del genere. Perché così Federico Chiesa non può darci una mano. Le voto 5 a Milik perché si mangia un gol decisamente troppo grosso per i suoi standard, perché Milik è un giocatore importantissimo per la Juve, ce l'ha già dimostrato in questa stagione. Peccato, peccato davvero, perché quel gol lì poi magari era pure fuori gioco, non lo so. Intanto buttamela dentro, poi ne riparliamo. E questo è stato Milik nei pochi minuti che ha avuto a disposizione e quell'occasione nulla più. Quindi, purtroppo poi pesa anche nella valutazione. C'è bisogno anche di Milik al 100% e sono sicuro che al termine di aprile arriveremo ad avere Milik nella sua miglior condizione fisica e psicologica possibile. E queste sono le pagelle, ragazzi, di Juventus Inter. Scusate se sono stato molto lungo, probabilmente, nei tempi. un po' di più di quello che mi ero messo in testa, che avevo previsto. Però era necessario toccare tante piccole cose, sia dal punto di vista del campo, sia dal punto di vista dell'extracampo, perché secondo me fanno parte di un'analisi completa a 360 gradi.